Giorgi, dopo aver lasciato Lowell praticamente moribondo fuori casa di Elise, si rivede con Abel e i due decidono insieme di liberare Arthur, tenuto prigioniero dal duca Dengering. Nel frattempo Giorgi comincia a maturare dei sentimenti d'amore per Abel, rendendosi conto di non considerarlo più come un fratello. Aiutati da alcuni amici, dal padre di Giorgi e dalla piccola Maria, figlia di Dengering, Abel si introduce nelle prigioni. Arthur viene liberato e Abel si sostituisce a lui nelle prigioni per prendere tempo. Arthur purtroppo, in preda alle allucinazioni, si getta nel Tamigi e non riaffiora più. Abel invece viene scoperto da Irwin. Durante una colluttazione all'interno delle prigioni, Irwin viene accidentalmente ucciso proprio da Abel con un colpo di pistola. Abel viene dunque condannato a morte per fucilazione. Giorgi è disperata, vuole assolutamente vedere Abel. Ancora con l'aiuto di Maria, Giorgi riuscirà a entrare nella prigione e a dichiarare il suo amore ad Abel. Abel e Giorgi consumeranno così il loro amore. Trascorre un mese e Giorgi si scopre incinta di Abel. Intanto è stata fissata la data della fucilazione. Il conte Gerald, padre di Giorgi, ha messo insieme le prove della colpevolezza di Dengering, che svolge affari illeciti, traffiga droga e ha complottato contro la regina. Comincia così una corsa contro il tempo nel giorno dell'esecuzione. Il conte Wilson, al comando del plotone di esecuzione, cerca di prendere tempo, ma è proprio il duca Dengering, ormai stufo di aspettare, a sparare i colpi mortali per Abel. Abel muore così tra le braccia di Giorgi e solo poco dopo Dengering sarà arrestato. Dunque la nostra protagonista, dopo aver rinunciato al suo primo amore, Lowell, perderà tragicamente anche il suo vero amore, Abel. Nel manga, infatti, dopo la morte di Abel, Giorgi cade in un profondo stato di depressione. Una mattina Giorgi riceve la visita di Lowell, che riesce a tirarla fuori dal letto, a farla reagire e a farla ricominciare a vivere. «Vivi per il tuo bambino, per l'amore che hai dentro e con il quale hai saputo ridarmi la vita», le dice Lowell, il quale, alla fine, conferma che si sta imbarcando con Elise per l'Italia, verso un nuovo futuro. Imparerà ad amarla, coltivando l'amore e la vita che Elise gli ha dato prendendosi cura di lui. Insomma, il lieto fine, tra virgolette, per Giorgi, all'interno del manga, sta nella nascita del piccolo Abel Junior e nella forza d'animo e nel coraggio di questa protagonista, che solo da se stessa e a dispetto delle avversità della vita, troverà sempre e comunque il modo di andare avanti. Un concetto di felicità o quanto meno di serenità piuttosto tipico delle culture orientali. La consolazione per Giorgi arriverà un anno dopo, quando, tornata in Australia insieme ad Abel Junior, ritroverà Arthur, che era stato salvato da una nave. Lo zio Kevin si era preso cura di lui e il ragazzo era riuscito finalmente a disintossicarsi, visto che durante la prigionia Arthur era stato costantemente sedato e drogato. Nelle tavole finali intuiamo che probabilmente Giorgi è destinato a trascorrere la sua vita con Arthur, un finale decisamente agrodolce perché il tutto sembra essere frutto quasi di un ripiego e non di una scelta consapevole. E veniamo al finale vero e proprio dell'anime che tutti giudicano un po' sospeso, ma che per le scelte compiute fino a quel momento dagli adattatori poteva essere l'unico possibile, e cioè che Giorgi tornerà in Australia insieme ai suoi due fratelli, senza necessariamente realizzarsi dal punto di vista amoroso. Dopo le peripezie e le sofferenze vissute, i tre fratelli si renderanno conto che solo in Australia sono stati davvero felici e cercheranno di ritrovare quella felicità nella loro amata terra, gestendo la fattoria. Personalmente oggi sento di spendere una parola di merito per il finale dell'anime, non solo perché i cattivi hanno la punizione che meritano e perché il bellissimo personaggio di Abel viene salvato dal suo tragico destino, ma anche perché questo finale si concentra effettivamente su Giorgi e sulle sue scelte. Giorgi può essere felice apprezzando ciò che la vita le offre, senza che quella felicità debba dipendere per forza dal fatto di trovare un fidanzato. L'amore un giorno forse arriverà, ma non è questo il messaggio che alla fine ci consegna l'anime. L'anime ci fa apprezzare l'amore fraterno, che alla fine è l'unico a trionfare davvero, perché è proprio sul finale della storia che Giorgi, Abel e Arthur capiscono cosa significhi amarsi incondizionatamente come veri fratelli, cosa voglia dire sacrificarsi per la felicità di una sorella o rischiare la vita per la libertà di un fratello. Un finale a suo modo rivoluzionario, perché mentre noi tutti aspettavamo negli anni 80 il lieto fine romantico, l'anime ci ha mostrato la vittoria di un amore più puro e più autentico. So che a tanti comunque questo finale non andò giù all'epoca e continua a non andare giù ancora oggi. E quindi sono pronta a leggere tutti i vostri commenti al riguardo, non siate troppo cattivi però. Bene, io oggi mi fermo qui e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!